Siamo a Queen's Way e abbiamo trovato un negozio make your 3D print mini-prim So, veramente c'è, ti fai il, ti fai il, la foto in 3D, c'è una figata, non si sa quanto si paga Però si dice che c'è la special offer, che sono 2, 3, 5 people, 5%, lì è, c'è, è troppo C'è, è troppo realistico E lui, lo vedi?